Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio e oggi voglio farti vedere una tecnica di editing di base, di sviluppo dei file RAW che io vado ad utilizzare normalmente sui miei file, ma mi rendo conto che molti di voi non conoscono assolutamente ma non è nulla che mi sono inventato io che ho scoperto, semplicemente come fai magari anche tu cerco di documentarmi con il tempo, di formarmi, quindi apprendo anche delle nuove tecniche dai miei colleghi me le faccio mie, le utilizzo, però mi rendo conto appunto che molti di noi non le conoscono quindi voglio fare questo video per spiegarti una tecnica di intervento di base che io andrò a fare con Adobe Lightroom perché è il software diciamocelo un po' più diffuso tra tutti, ma in realtà si può replicare anche con altri software come con Capture One o comunque con dei software che hanno questo gruppo strumenti simile quindi adesso andiamo su Dextro per il mio computer e vediamo di cosa si tratta prima però come sempre ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di condividere questo episodio se pensi possa essere interessante, trovi qui sotto tutti i pulsanti, puoi condividerlo sui tuoi social network preferiti sui vari sistemi di condivisione, Whatsapp, Telegram, Instagram, insomma c'è di tutto a disposizione ma adesso andiamo sul Dextro per il mio computer e vediamo di cosa si tratta ed eccoci qui su Dextro per il mio computer, come puoi vedere sono con Adobe Lightroom e qui ho le stesse immagini doppiate con una scheda verde e una rossa è la stessa immagine ad esempio sulla scheda rossa e quella verde su quella rossa applicherò l'intervento normale diciamo e qui andrò ad applicare l'intervento alternativo la tecnica appunto che ti faccio conoscere iniziamo con il metodo normale, queste foto hanno tutta una caratteristica comune infatti queste foto infatti se noi andiamo a vederle nell'istogramma noterai che è tendenzialmente verso sinistra ha delle tonalità medie abbastanza presenti, eccole qui, però tendenzialmente sono leggermente sottoesposte vedi anche questa immagine leggermente sottoesposta, anche questa, anche se questa è gestita meglio da questo punto di vista ma in sostanza sono tutte immagini che hanno tendenzialmente l'istogramma spostato verso sinistra sono un po' sottoesposte perché è qui dove questa tecnica funziona bene o meglio te la faccio vedere come funziona, in realtà nulla ti vieta di applicarla anche in altri contesti ma andiamo a prendere questa immagine ad esempio, voglio ottimizzarla nell'istogramma quindi prendo quella con la scheda rossa e cosa andrei a fare? andrei ad aumentare la luminosità delle tonalità medie il fatto è che con Lightroom non è che hai in realtà la possibilità di intervenire in modo specifico sulle tonalità medie non hai infatti uno slider specifico per le tonalità medie, hai per le luci, per i bianchi ma non per le tonalità medie l'unica cosa che possiamo fare è agire con l'esposizione tant'è che noi possiamo agire o qui con lo slider dell'esposizione oppure vai qui sopra l'istogramma, clicchi qui in mezzo e sposti verso destra un po' tutto l'istogramma vedi che appunto aumenta l'esposizione, aumenta di valore è la stessa identica cosa e vado praticamente ad ottimizzare l'immagine vado a renderla un po' più luminosa e tendenzialmente cosa andrei a fare io? tenderei a aumentare un po' di più la luminosità anche a costo di rendere le luci un po' troppo chiare per poi andare a recuperare un po' le luci con gli altri strumenti che ho a disposizione perché questo intervento di esposizione agisce su tutto l'istogramma quindi lo porto verso destra e dopo potrai agire sulle luci o sui bianchi per recuperare un pochino anche qui con i neri vado ad ottimizzarli scherisco un po' le ombre eventualmente c'è la possibilità insomma di agire con vari interventi questa qui sarebbe l'immagine iniziale questa qui è l'immagine finale stiamo parlando di intervento di base quindi non devi vederla come foto finita da qui poi si procede con lo sviluppo del firewall in base alle tue esigenze alle tue preferenze però si tratta appunto di ottimizzare il file di partenza e questo è un metodo ma ce n'è uno migliore infatti adesso io vado sull'altra immagine che è la copia ovviamente con tutte le impostazioni resettate e questa immagine come ti dicevo ha la caratteristica di avere una predominanza di tonalità medie e c'è uno strumento su Adobe Lightroom e anche su altri software che ti permette di agire in modo molto più specifico sulle tonalità medie e lo troviamo nel gruppo del color grading un gruppo strumenti di cui ti ho già parlato in un altro video che ti riporterò qui da qualche parte quindi andiamo a vedere come si fa torniamo qui sulla nostra immagine invece di agire sull'esposizione io vado a prendere il color grading qui abbiamo le varie ruote dei colori che ti permette di agire sulle luci, sulle ombre, sui mezzi toni ovviamente dove andrò ad agire io? sui mezzi toni quindi vado a cliccare su mezzi toni in modo da vedere questa ruota dei colori in modo molto più specifico e tra gli strumenti che ho a disposizione ne ho uno che si chiama luminanza praticamente è uno strumento specifico che agisce solo sulla luminosità di cosa? dei mezzi toni e quindi quello che vado a fare è prendere questo slider della luminanza lo porto al valore massimo 100 ovviamente non devi per forza portarlo a 100 dipende da immagine a immagine nel mio caso sì guarda l'istogramma qui in alto cosa fa? vedi che si stira verso destra viene ottimizzato e vedi anche l'immagine la vedi già prima dopo come si è schiarita molto bene ma non basta torno sulla scheda di base vado a aumentare un po' le luci perché voglio comunque portare l'istogramma un po' più verso destra le ombre sono ancora schiacciate qui a sinistra quindi aumento un po' i neri e un po' le ombre per ottimizzare la mia immagine eventualmente con le luci poi recupero se è un po' troppo luminosa andiamo a vedere adesso la differenza tra le due immagini prima guardiamo l'istogramma per vedere se è più o meno simile questo è l'intervento finale con il nuovo metodo questo è l'intervento di prima andiamo a vedere gli istogrammi innanzitutto vedi che dal punto di vista delle zone chiare l'istogramma è più o meno simile sia nel metodo precedente sia in quello successivo sono più o meno lì ma come puoi notare è meglio distribuito l'istogramma nel metodo che ho utilizzato ora e qual è il risultato finale? guardalo tecnica di base quella che avremmo sempre utilizzato e questa qui invece è la tecnica che ti ho fatto appena vedere come puoi notare ma lo noti anche a colpo d'occhio è molto più contrastata questa immagine con questa tipologia di intervento lavorando sui mezzi toni nella luminanza direttamente da color grading piuttosto che lavorare con il slider dell'esposizione dopo da qui in avanti ovviamente si possono fare vari interventi ok lavorando un po' più intensamente con il metodo di base probabilmente potrei ottenere più o meno lo stesso risultato lavorando anche con il contrasto ma qui andrei a toccare anche i colori invece qui i colori rimangono praticamente del tutto naturali con il metodo che ho appena applicato andiamo a provare un'altra immagine perché come ti ho detto tutte queste immagini hanno delle caratteristiche comuni quindi vado a prendere ad esempio questa scena delle tre cime di Lavaredo anche qui se andiamo a vedere l'istogramma certo si è molto più espanso rispetto all'immagine precedente ma anche qui abbiamo una predominanza di tonalità medie e andiamo a fare i due interventi quindi con l'immagine su scheda rossa vado a prendere l'esposizione e aumento l'esposizione per aumentare la luminosità della scena dopodiché potrei intervenire sulle luci per smorzare un po' le luci aumentare un po' le ombre e i neri ok questo è l'intervento finale vediamo prima dopo ho tirato fuori un po' di dettagli dall'immagine che poi mi serviranno per andare avanti con il mio editing della stessa però adesso faccio lo stesso intervento sulla stessa immagine però con un metodo differente quindi vado a prendere nuovamente questa immagine vado però su color grading vado sui mezzi toni sono già qui prendo luminanza e aumento questo valore guarda già la scena vedi come si illumina ma rimane comunque molto bilanciata infatti vediamo anche l'istogramma come da questo punto a quest'altro si è molto adattato qui sulla parte destra vado sul pannello di base aumento un po' le luci aumento un po' i neri un po' le ombre ok e adesso andiamo a vedere le due immagini metodo precedente metodo attuale metodo precedente metodo attuale se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio anche queste zone come puoi notare almeno questo è quello che percepisco io il metodo precedente tende a schiarirmi un po' troppo la scena facendomi perdere un po' di contrasto mentre con il metodo che ho appena utilizzato io guadagno luminosità l'istogramma si mette a posto diventa ottimizzato ma diventa molto più contrastata molto più carina andiamo a vedere anche i colori vedi che con il metodo che ho applicato io i colori rimangono molto intensi molto particolari con il metodo precedente tendono a perdere un po' di colore anche nell'intensità perché questo intervento sull'esposizione sulle luci insomma ha questi effetti collaterali come ti dicevo nulla ti vieta di intervenire sul metodo precedente e continuare con tutta una serie di interventi riduzione del fossile eccetera per ottenere un risultato pressoché simile ma come ti ho fatto vedere con questo metodo con dei semplici veramente interventi di base sono riuscito a ottimizzare l'istogramma della mia immagine vogliamo provare con un'ultima immagine eccola qui prendiamo questa qui è molto più evidente come l'istogramma è leggermente sottoesposto vado su esposizione aumento l'esposizione la scena diventa più luminosa ok prendiamo l'altra immagine andiamo su color grading vado sui mezzi toni aumento la luminosità e già qui vedi che l'intervento è molto molto carino torno sugli interventi di base luci lo porto su ok eccolo qui porto su un po' i neri e le ombre ok torno sulle luci bene l'intervento è stato fatto vediamo immagine precedente magari qui è un po' troppo esposta riduciamo un pochino volendo andiamo anche qui a tirar su un po' i neri un po' le ombre anche qua ma vedrai che il risultato è molto diverso questo è il metodo diciamo tradizionale questo è il metodo che ho utilizzato io metodo tradizionale metodo che ho utilizzato io anche qui come puoi notare hai un controllo sui contrasti sulle ombre molto più efficiente di quello che andresti a fare col metodo diciamo tradizionale e ripeto a costo di continuare ad esistere su questo punto nulla ti vieta utilizzare comunque il metodo tradizionale e ottenere grosso modo lo stesso risultato ma fai molti più interventi micro interventi per adattare la scena aumentare i contrasti eccetera invece con questa strada l'intervento è molto molto più veloce si può applicare con Adobe Lightroom ma si può applicare anche con Capture One che anche quello ha tutto il gruppo strumenti ruote dei colori anche se Capture One ha degli interventi che permette di lavorare in modo specifico sui mezzi toni per questo video è tutto spero che con questo piccolo diciamo trucco chiamiamolo così con questa semplice tecnica possa migliorare un po' l'editing delle tue immagini fammelo sapere andando qui sotto nei commenti lasciandomi il tuo feedback e come sempre io ringrazio innanzitutto i sostenitori del mio canale che avranno modo di accedere attraverso il mio patrons a questi file che metto a disposizione per allenarsi per fare gli stessi esercizi che ho fatto io quindi se anche tu vuoi prendere in mano questi file ti basta diventare il mio patrons e ancora una volta se l'episodio questo video ti è piaciuto condividilo attraverso i vari social network i vari sistemi di condivisione che abbiamo a disposizione Whatsapp Instagram Telegram e tutto quello che ci va dietro per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da adesso